Le condizioni in cui verse il parco Baden-Powell alla rotonda San Paolo di Reggio Calabria sono un'imbarazzante testimonianza di completo degrado e abbandono della neonata città metropolitana. All'interno del parco sono presenti strutture per varie attività ludico-ricreative, al momento purtroppo inutilizzabili. Il parco era stato ideato come luogo di divertimento per grandi e piccini che potevano recarsi lì e giocare all'aria aperta in un polmone verde pulito nel cuore della città. Oggi purtroppo però, verse in condizioni pietose, come testimoniano le immagini, l'intera aria e abbandonate alla merce dei vandali che hanno distrutto gran parte delle attrezzature e dei servizi. A preoccupare non poco gli abitanti della zona e non solo le condizioni di un'opera irresponsabilmente abbandonata e in rovina. Come è possibile uno scempio del genere al centro della città metropolitana? Ecco come appare il villaggio dei bambini alla rotonda, scritti ovunque, porte di velte, bagni, oveligiene e un lontano ricordo a testimoniare l'inciviltà di chi non è abituato a rispettare nemmeno casa sua. Il parco Baden-Powell, così come fanno sapere dal comune di Reggio Calabria, è stato selezionato dal Ministero dei Beni Culturali e dall'Ordine Nazionale degli Architetti come area di interesse nazionale per il concorso di idee sulla progettazione, organizzato in collaborazione con il Consiglio Nazionale degli Architetti. L'idea, presentata dal comune di Reggio Calabria, è stata selezionata insieme a quella di altri nove comuni, su un totale di ben 140 progetti presentati da altrettanti municipi italiani. Le aree sono state scelte sulla base di una serie di proposte presentate dai comuni, chiamate ad individuare siti di periferie urbane da riqualificare. Alle dieci proposte vincitrici sarà assegnato un premio in denaro ed i progetti verranno offerti gratuitamente ai comuni affinché possano procedere alle successive fasi per la realizzazione degli interventi di riqualificazione urbana. Il Sindaco Giuseppe Falcomatà si è detto soddisfatto della scelta. Il concorso di idee promosso dal MIBACT ha il merito di promuovere il lavoro di giovani architetti e inoltre darà la possibilità alla città metropolitana di avere un progetto chiave in mano per la riqualificazione del parco. Un'opera che a quanto pare il comune considera strategica e che è stata inserita nel patto per Reggio Calabria, ma che al momento è luogo di degrado, incuria e abbandono.